Definitivamente la vita era un film solo sul ballo, saper ballare, e invece alla fine mi riduco sempre a guardare, che è anche bello, però è tutta un'altra cosa. Un formulario di consuelo con una foto 2x4 che si derribe il silenzio. Era la 9 in la mattina, santo domingo 8 de enero, con la pacienza che si acaba, poi già non è visa per un sogno. Santo domingo, santo domingo, santo domingo, santo domingo de cemento e cal, en el asfalto que me va a encontrar, santo domingo, dicoare la vita per un sogno, santo domingo, santo romano, di 근데 tutto il giorno non arrivo, si dovete a Data sei una roba, si dovete a bella un interno pubblico, santo domingo, santo domingo, si dovete aломare la vita per un sogno. Sa qual è il mio sogno? Il mio sogno è sempre stato quello di saper ballare Io non sono stato più lo stesso dopo che ho visto quel film Flashdance con Jennifer Beats Della ballerina laggiù E Jennifer Beats Come l'invidio Eh Jennifer Beats Come l'invidio Spinnaceto Spinnaceto Un quartiere costruito di recente Viene sempre inserito nei discorsi per parlarne male Vabbè ma qui mica siamo a Spinnaceto Ma dove abiti? A Spinnaceto? E poi mi ricordo che un giorno ho letto anche un soggetto Che si chiamava Fuga da Spinnaceto Parlava di un ragazzo che scappava da quel quartiere Scappava di casa e non tornava mai più E allora andiamo a vedere Spinnaceto Spinacito pensavo peggio, non è per niente male, ma infatti non c'è che ci stavo pensando, non c'è il giorno. Casal Palocco Passando accanto a queste case Sento tutto un odore di tute indossate al posto dei vestiti Un odore di videocassette Cani in giardino a far la guardia E pizze già pronte dentro scatole di cartone Ma perché sono venuti qua giù trent'anni fa? Scusi, ma perché siete venuti ad abitare qui a Casal Palocco? Ma guardi che verde, la tranquillità Sì, verde, ma voi sono sicuro una trentina d'anni fa, no? Siete venuti qua a 61... 62 Ecco, trent'anni fa Roma Era una città meravigliosa Ma questo è diverso Sì, è diverso anche ora, ma Roma allora Era bellissima, capisci? Questo mi spaventa Cani dietro i cancelli Videocassette Pantofone Jennifer Mills? Jennifer Mills? Ok, here we go Jennifer Mills? Jennifer Mills? Sì? Cosa ha detto? Cosa ha detto? Chi è lei? Ah, perché a me sarebbe piaciuto sempre poter danzare Ma per esempio, se fossi stato in Emilia Romagna Dove ci sono centri per anziani, ospedali che funzionano, strutture, servizi, scuole di ballo Tango, merengue, cha-cha-cha, mambo Allora, quando vado a sentire musica Potrei ora ballare e non veder ballare E però quelle scarpe sono molto comode Così semplici eppure Beh, devono stare molto a loro agio i piedi, eh? Sì, sono molto comodi I think, I think this guy must be, um, you know, a feet maniac Well, let's go No, you just have to be calm, he's a little bit off, just, you know Cosa ha detto tipo pazzo? No, no, no Non era crazy? No Uh, off Cosa vuol dire? Uh, vuol dire speciale, particolare, verso pazzo, ma non, ma non ancora Isn't it right? I mean, off, off is the right thing Not really crazy, but who, you know, is not really troubled Oh, you mean like, uh, off-center? Yeah, like off-center, but, but, something more precise, I think It must be something more precise Mm, maybe whimsical Whimsical, maybe Whimsical? Mm, quasi scemo, quasi scemo Anche quando vado nelle altre città, l'unica cosa che mi piace fare E guardare le case Che bello sarebbe un film Fatto solo di case Panoramiche su case Garbatella 1927 Villaggio Olimpico 1960 Tufello 1960 Vigne Nuove 1987 Monteverde 1939 1927 M, Se le piscini è due L'alba d'annibidire il gabbale L'alba di fargare la sua scuola Nerva ad andare in casa Cos'è? Tartaglio? Fuori 50 dollari è da Tardiavo! Ecco le tue città! Ecco le tue città!